Cambio al vertice della quarta brigata, telecomunicazioni, sistemi per la difesa aerea e l'assistenza al volo di Borgo Piave. Il generale di brigata, Vincenzo Falzarano, lascia il posto al generale di brigata, Sandro Sanasi. La cerimonia si è svolta alla presenza del comandante logistico dell'Aeronautica Militare e il generale di squadra aerea, Giovanni Fantuzzi, ed ha visto la partecipazione di tante autorità. Certo, l'Aeronautica Militare è nell'agropuntino da tantissimi anni, sia con il settantesimo stormo che con la quarta brigata. Siamo grati dell'ospitalità e pensiamo di essere anche importanti per il territorio, siamo intenzionati a rimanerci. Falzarano, nel ripercorrere i suoi anni di comando, ha evidenziato il merito degli uomini e delle donne della quarta brigata, parlando anche del suo rapporto con Latina. Per me, che sono nato a Latina, che ho vissuto solo tre giorni, questi tre anni e mezzo mi hanno dato la possibilità di scoprire un territorio favoloso, delle persone calorose che mi hanno fatto sentire a casa, quindi effettivamente oggi è un dispiacere andare via da Latina. Mi ricordo la stessa domanda che mi fece lei il primo giorno, che ne pensa per uno che è nato a Latina di essere qui a Latina? Oggi le dico, è stata una bellissima esperienza. Il generale Sanasi ha espresso parole di gratitudine per il conferimento del prestigioso incarico, auspicando che il legame esistente tra la città di Latina e l'arma azzurra si consolidi sempre di più nel tempo. Io trovo una realtà sicuramente in perfetta efficienza, grazie al lavoro svolto dal mio, più che collega, amico, perché noi abbiamo un'origine comune come corso d'accademia e come vita e carriera professionale, quindi il suo punto di arrivo è il mio punto di partenza, ovviamente, proseguirò nello stesso solco tracciato da lui, nella speranza di riuscire a entrare in sintonia con la città di Latina e con la popolazione alla stessa maniera che ha fatto lui sostanzialmente. Noi anche da ragazzini abbiamo volato su questo territorio come allievi della scuola di volo che è qua a Latina, per cui è un continuo rinnovarsi di legami con la città di Latina.